Messageriamo un po', esageriamo un po', messageriamo un po', esageriamo un po'. Ho respinto il giudice di pace, questa mattina alle 11 doveva mettere la sentenza, ma è stato partecipato per problemi burocratici, ma ha letto praticamente, ha detto che devo pagare la multa, è confermata, se non mi ricordo bene i dettagli. Però diciamo il feeling giuridico umano che mi è arrivato è che era come una vecchia insegnante che voleva bacchettare l'alunno che aveva smanie da arie sessantottine che si stava permettendo cose che non fanno bene. La stessa sensazione dell'altra volta, no? Infatti quando ci siamo lasciati il 20 febbraio, sto mangiando un biscottino della Vissalus che sono buonissimi. Mi devo tirare su perché fa due giorni il mio compagno, allora mi devo organizzare qualche cosa, penso che farò un live la sera. Sì, ho deciso adesso, il mio compagno, faccio un live la sera e chi vuole venire qui si porta da bere, da mangiare e siamo qui e parliamo di come sta andando, di come Ravenna si sta muovendo, no? Perché la sentenza che è arrivata oggi mi ha sorpreso, era in linea con quell'odore di sospetto di mandanti iniziali che, visto la cura che si sono presi di numerose forze dell'ordine, che mi hanno seguito e mi seguono, no? Con attenzione non poteva che quando arrivava giudice di pace dirò che ha ragione lui, no? Si è pensato bello, c'era la possibilità, no? Adesso le motivazioni ancora non le conosco, arriveranno, le deve depositare, però, già così, mi diamo un appello con l'avvocato Massaia, andiamo avanti fino alla fine, vediamo come va. Io, dal mio canto, devo, da guerriero, difendere la mia fiammella, no? Perché ho imparato che il vero guerriero non è quello che fa cose mirabolanti di forza, di arti marziali, eccetera, fuori, ma è quel guerriero che protegge la sua lotta e protetta a far sì che la sua fiammella non si spenga, perché questa è la cosa che farà crescere tutto. Comunque, è spinto e adesso non so dove faremo l'appello, ma... Bologna, mi sembra di aver sentito... Possiamo andare giù, se l'ha detto, a Bologna. Vabbè, vediamo. Dove Dio vuole che si passi, io vado, perché mi sono messo nelle sue mani fin dall'inizio e pur cambiando estremamente molto le cose, le persone, le situazioni, ho visto che non mi è mai mancata la terra sotto i piedi per poter fare i passi che sto facendo, ho compreso adesso che... dove ci sono delle cose sul diritto naturale in pentola che bollono ed è bene che lo faccia, perché ci vuole chiarezza nell'usare il diritto naturale. avere un personaggio come Anna Mazzaglia affezionato nella mia idea di pace, di realizzare un monumento dedicato alla pace, che sia in grado di ricevere donazioni e dare donazioni, no? Questo flusso che è il flusso della vita, che è il flusso del respiro, che è il flusso del nostro corpo sanguigno, no? Nel nostro sistema sanguigno, se non c'è ossigeno nel nostro sistema sanguigno, no? Sentivo oggi, quando ero sul lettino dell'Asia, Gemma, che parlavano a quelli che avrebbero poi preso il turno successivo sui materassini infrarossi, no? Che il sistema sanguigno, se non è ossigenato, ha dei problemi e questi massaggi hanno lo scopo di, con gli infrarossi, di far sì che il sistema sanguigno riesca a circolare sempre meglio e questa circolazione porta una salute, un beneficio e poi fare cose che una volta non facevi. E mentre dicevo, questa cosa, vedevo questo sistema sanguigno come l'economia, no? Che stiamo vivendo adesso, dove c'è qualcuno che interviene a togliere volutamente l'ossigeno nel sistema sanguigno, perché togliendo l'ossigeno, piano piano si ammalano, no? Delle parti, si incancreniscono, muoiono, diventano tumori, semplicemente perché gli viene negato un elemento, l'ossigeno, che è a disposizione. E' progettato per essere insieme agli altri elementi a far sì che una vita organizzata in questo modo, umana, natura, in questa dimensione, viene qui e vive con lo sketch meraviglioso dell'essere umano, scintilla divina, che cerca la radice da dove è partito. Il suo genitore, il suo padre, la sua vera identità. Questa in sintesi stretta è lo scopo di ogni essere umano in qualsiasi epoca. In questo momento io sono un essere umano che sono, nella mia epoca, felice di difendere quella fiammella, difendere questo diritto alla chiarezza, come dice il mio maestro, il mio leader, quello che io seguirò per il resto della mia vita, e che più vado avanti e più scopro quanto è stato importante seguirlo fin dall'inizio. Anche a volte, in quei momenti dove io non capivo, non vedevo un beneficio, mi si diceva solo vai avanti, continua tutti i giorni a mangiare questa pappa e vedrai che a un certo punto il risultato c'è, no? C'è la fede all'inizio, c'è sempre stato la fede all'inizio, perché è un odore che mi ha portato lì e poi un sapore, un qualcosa che aveva riempito la mia fama interiore, l'amore, dove in questa ipotetica sacca contenitore, no? Dove io mettevo l'amore che prendevo nel mondo, avessi avuto un buco, aveva un buco e non teneva niente. O forse quel buco è giusto che ci sia, perché l'amore non deve fermarsi, deve scorrere, no? Allora, una cosa infinita può scorrere nel respiro del presente, in eterno, perché è infinita. Una cosa nata che dovrà morire in eterno non può scorrere, no? E non è la sua natura quella di completarti. Comunque, il sottoscritto è stato rispinto, perché ufficialmente Ravenna, ufficialmente la Ravenna politica, mi dice che io sono un raglietto. Allora, questa sera andrò allo Spartaco, andrò allo Spartaco a parlare con delle persone per vedere se da reietto, andando nell'unico posto riconosciuto, dove gli artisti matti mi si imposano a parte della società. Cioè, gli artisti che ci sono allo Spartaco non vengono sponsorizzati, mostrati nel mar, in queste belle mostre, il fantasma, dove non c'è mai nessuno, è più frequentato dai custodi che dalla gente. E invece a Forlì, a Forlì, fanno delle mostre, una più bella dell'altra, che i ravennati se ne sognano e si domandano, ma com'è possibile? E forse, la butto là, non l'ipotesi, forse che l'artista c'è, che potrebbe portare mucchi di gente, marie di gente, prosperità per la città, ricchezza, ricordo, evento, che unisce, che metterebbe a posto tante cose, che non ci serve bisogno di mettere tutti questi autovelox, trappole, per succhiare il sangue ai cittadini e rimpinguare le casse del comune di Ravenna, che giustamente devono essere riempite per fare i lavori, ma può essere fatto con la ricchezza che un lavoro artistico, un artista vivo che esiste, si può applicare. E' bello che non solo a Ravenna non me lo fanno fare, no? E' anche legittimo, ma mi fanno anche la multa, per averlo solo pensato e mostrato. Ecco, questo progetto, se andasse verso il sud, da Forlì, anche San Marino non è male, mi sta ventilando questa cosa, non so perché, sarà perché sono un artista visionario, però ieri ho sentito, mentre mi fumavo una sigaretta, sulla cima del Greta Cielo, dove c'è, messaggeriamo, nel mio negozio, in cima c'è un bel terrazzolo, dove ogni tanto vado, fumo una sigaretta e mi guardo il paesaggio. Era piuttosto pulito e si vedeva San Marino, no? Siccome San Marino ho dei ricordi, delle esperienze, fino a quando ero bambino, poi anche quando frequentavo Tornino a Guerra, mi ricordo che il giorno, parlando così, lui disse, parlando della lingua romagnola, eccetera, ha detto, ho sentito dire che nel bar che dicevano, quel posto là, no, quel posto là è morto, ma non c'era più nessuno, e quel paese là, no, no, è morto, e uno fa, e San Marino, San Marino l'è accese, che vuol dire, San Marino è acceso, ed era vero. San Marino, a differenza della Repubblica Italiana e con i suoi cittadini, era sempre più leggero, più luminoso, più acceso, perché non aveva l'aggravante politica, anche se l'influenza c'è ovviamente, no? E allora con questo Seis mi sono collegato un po' a questo Vissalus, che sto prendendo adesso, no? Questo prodotto qui, quel biscottino che mangiavo all'inizio, no? Il biscottino che mangiavo all'inizio, questo qui, io sto andando avanti con l'alimentazione, mi trovo bene, mi piace proprio mangiarlo, questa sera vado ad un'altra riunione, e allora pensavo, siccome chi ha lanciato questo prodotto qui, no? Sono due di San Marino, specialmente uno, adesso non mi ricordo, ho guardato un po' i suoi video, ma adesso mi sfugio il nome, che è. E niente, è l'ora per cui adesso, chissà se questa immagine di San Marino ha un suo senso per essere acquagliata attraverso la Salus e questa immagine di San Marino. Vediamo.